Si chiama Home Care Premium, si traduce Assistenza Domiciliare per Dipendenti IMSS. L'ambito territoriale e sociale 29, che comprende 13 comuni, mette a disposizione di 50 richiedenti fino a 1.300 euro al mese per la copertura dei servizi assistenziali. Le somme messe a disposizione variano in base all'importo ISEE. È una forma di assistenza innovativa domiciliare perché non parliamo solo di assistenza in senso stretto, ma di tante prestazioni integrative proprio per alleviare il peso delle persone non autosufficienti, quindi dal parrucchiere all'estetista alla piccola manutenzione domestica, anche al sollievo del caregiver, cioè della persona che si occupa del non autosufficiente, fino ad arrivare appunto a assistenza tipo il trasporto disabile, il trasporto anziani. A partecipare sono anche le aziende e le imprese richiedenti, ovvero coloro che scelgono di dare la propria disponibilità al servizio offerto. Le attività in questione sono finanziate dal Fondo Credito e Attività Sociali. A far richiesta dell'OMCARE sono tutti i dipendenti IMSS che si rivolgeranno nei vari comuni per fare richiesta. I posti a disposizione sono limitati, dunque importante è presentare la richiesta in breve tempo. Quindi avremo la possibilità di accreditare tutti i fornitori, estetisti, ristoranti, piccoli parrucchieri, chi si occupa di piccola manutenzione e l'accreditamento del fornitore anticipa una serie di innovazioni che si stanno proponendo anche a livello regionale, quindi arriveremo pronti come territorio alle prossime sfide.